Questo è il libro magico. Quello che facciamo noi è questa qui, questa qui, questa, questa. Questa è quella che facciamo noi. Si cosi chiama questa? La orda chiamavano la favorita. Fa, 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 u, rita, non favorita, capito? Ah no, fa, u, con la u. Adesso aggiungiamo la teglia per il composto. Ecco, aggiungiamo burro, poi ci passiamo la farina, ecco. Certo che questa, questa se va in cosa? Questa? Questa quant'anni c'ha stata? Ormai cammina? Va, 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 va da sola va questa? Questa è di mamma, è di mamma questa lì. Quanto c'ha? 80 anni questa qui? Eh, io non lo so. Ovviamente uno mette giù la farina fino al rifiuto, fino a che non rifiuta, che non si attacca giù la loro. Quella che vuole prende. Perfè? Da rosso. Ecco, eccoci. Adesso. Un pizzico di sale che va messo su gli albumi. Questo è questo. Un pizzico di sale. Mettilo di sale. Cubi, quanto basta? Quanto basta? La cucchiai hanno degli albumi e invece tutto il resto non lo mettiamo nei tuorli. Tutto il resto non lo mettiamo nei tuorli. Eh. Eccoci. 지는o di acqua. No, di uova. all'uovo. Questa è una grande 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 grande. ma che resistenza. Nel vento. Questa è una fantasia. No, non butta fuori. No, no. Non butta fuori. No, no. Non butta fuori. Non butta fuori. Non butta fuori. Non butta fuori. Grazie a tutti 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 Adesso la voglio provare un pezzetto Buona Solamente che è calda Da gente nuova quando più fredda è molto più buona Sopra sembra che sia L'originale invece è proprio il colore originale che deve venire Posto? Buonissimo Però la cosa sua è domani questa Allora Allora